Istituto Braga arriva un contributo anche dalla provincia di Teramo dopo la sospensione durata alcuni anni per mancanza di fondi. Se ne parlerà venerdì durante il Consiglio Provinciale. Stiamo predisponendo il bilancio di previsione grazie al lavoro che abbiamo compiuto, grazie a una serie di interventi e anche all'individuazione di somme che a nostro avviso ci sono dovute da parte della Regione Abruzzo abbiamo qualche piccolo margine per intervenire anche su iniziative di tipo culturale, associazioni che per noi sono molto importanti. Tra queste sicuramente il Braga per il quale stiamo cercando di vedere un contributo che unitamente ha la messa a disposizione di una sede sulla quale stiamo ancora lavorando perché naturalmente c'è da convincere qualche dirigente scolastico dovrebbe avvicinarsi sostanzialmente all'onere che in questo momento sopporta il Comune di Terra. La provincia sta cercando più di una sede per l'Istituto Braga. Stiamo parlando di più di una sede ma la stiamo un attimo valutando perché è chiaro che è necessario però fare dei lavori per tenere distinto ovviamente l'Istituto dall'attività normale delle lezioni e soprattutto dobbiamo ottenere l'assenso dei dirigenti e questo non è semplice.